Molti di voi si sono chiesti in questione ma dove è finito Marcello Fo? Lo vedete, io in questo momento sono in Grecia dove sto passando una vacanza e in meno di 24 ore la mia vita è cambiata. Ieri sera ho ricevuto una proposta, una prima richiesta di disponibilità per ricoprire l'incarico di presidente della RAI e che mi ha molto colpito, mi ha molto lusingato e questa mattina mi hanno detto che ero il candidato prescelto. Ovviamente l'ho accettato con molto piacere ma questa scelta ha rivoluzionato la mia vita in pochissimo tempo e mi onora, mi lusinga, l'ho accettato con molto piacere e ringrazio chi me l'ha proposto come ho già fatto oggi sulla mia pagina Facebook e non posso che promettere un impegno molto autentico, sincero, sull'onda di colui che è stato il mio maestro Indro Montanelli alla cui scuola io sono cresciuto e al cui giornalismo mi sono sempre ispirato. Io credo che l'onestà intellettuale e la capacità di riconoscere i propri errori, la capacità di essere autenticamente pluralisti, autenticamente al servizio dei cittadini sia una caratteristica indispensabile e io come presidente della RAI farò di tutto per essere alla vostra altezza e per aiutare la RAI a tornare ad essere un esempio per tutti e mi auguro citato e apprezzato anche nel mondo.